Che fai? Metto l'acqua. Dove la metti l'acqua? Sul pavimento. Davvero? Va bene. Vediamo un po' che combini. Tutte due le manine. Tutte due. Con tutte due le manine. Metti tutte due le mani. Non avere paura. Tutte due le mani. Fai così. Così. Vedi? Ancora. Più forte. Vai. Forza. Più forte. Con tutte due le mani. Mettici tutte due le mani. Eh? Che c'hai con quella mano? Hai paura di mettere l'altra mano? Tutte due. Dai. Tutte due. Le mani. Bravo. Più forte. Così. Forte. 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 Ti ho bagnato. Dai. Vieni. 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 Perché hai tolto i calzini? Perché l'hai tolti? Perché sono bagnati. Perché sono bagnati? Ti dà fastidio. Eh sì. Vabbè. Vieni. Aspetta che tiro le ciabattini. Vieni. Metti questi. Vai. Ah forza. Vai. Metti le ciabattini. Eh sì mamma. Sei pronto? Sì. A fare questo gioco? Eh sì. Mi aiuti a pulire? Eh sì. Andiamo. Dai forza. Andiamo. Vai. Sei pronto a buttare l'acqua? Poco a poco. Vai. Butta un pochino qui. Vai. Vai. Un altro pochino di là. Prendi il secco e butta un pochino di là. Devi rientire tutto il pavimento d'acqua. Vieni. Devi bagnare tutto il pavimento. Tutto? Va bene. Vai. Vai. Anche di là. Vai. Anche di là. Guarda. Sull'angolino. Vai di là anche. Bravissimo. Vai. Non ti fa tanta. Via. Vai. Anche di là. Anche dall'altra parte. Là. Bravissimo. Ancora. Ok. Poi che cosa facciamo? Basta, basta, basta. E' bravo. Vai. Forte, forte. Forte come sta nonna Rosa, vero? Vero che a stupo ti pulisce così, si giusta l'acqua per terra. Ma se ti piaceva tanto? Forte, forte. Dai, anche di qua. Forte, forte. Anche da questa parte. Non ti metto il fuori a via. Prendi la rischia. Bravo. Con tutte le manine, come fai? Ok. Vai. Bravo. Che c'è da ridere? Eh? Che c'è? Vai, ti amo, qui. Eh? Quanti, non mi fai? Quanti, non mi fai? Fammi vedere che ti è successo. Ti sei inserito con un pezzetto di legno? Dai, inserito. Fammi vedere. Non è successo niente. Ma che sarà mai? Dai, forse. Ecco, bravo. Prendilo da su. Se no, ti fai male. Piano, piano, eh. Ok. Prendi l'acqua che sta là dietro, in fondo. Prendi l'acqua che sta in fondo. Ah, dici l'acqua, capito? Prendi l'acqua così, con questo, dice voi. Dai così. Ok? E la diri verso di te. Va bene? Tieni. Ti sei fatto male, amore? Fammi vedere un titino. Che è successo? Fammi vedere un titino. Aspetta. Se no, mi fai vedere. Se no, mi fai vedere che c'hai. Posso vedere? Mi fai vedere? E allora, se no, mi fai vedere ci devi rimanere con quello dentro, col pezzettino di legno. Mi fai vedere sì o no? Sì. Però devi stare tranquillo. Fammi vedere un attimo. Qual è? Quale dito è? Quello. Fammi vedere il dito. Se lo sposti ci rimani con quello, non te lo tolgo, eh? Che vuoi fare? Me lo fai vedere. Non ho capito, che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Eh? Si guarisce. Certo che guarisce, guarda che non hai niente, eh? Fammi vedere. Lo sai quante volte mi è entrato un pezzetto di legno? Ma vuoi che ti aiuto o non vuoi che ti aiuto? Mi fai vedere? Che ti faccio? Se io ti faccio vedere, se tu che non mi fai vedere non riesco a capire com'è. Cris, non vedo. Non vedo. Qual è il dito? Dov'è che ti fa male? Questo o questo? Questo. Questo quale? Queste due. Su tutte e due? Eh, ma se fai così io non posso. Lascia stare. Dai, continua a fare quello che stavi facendo. Ti stai guarendo. Eh, quello che stila da solo. Dai, pazienza. Tu non mi fai vedere? Dai. Forse. Con una mano. Fai con tutte e due le mani che non succede niente. Dai. Quello va via da solo, Cristian. Dai. Se tu ti facevi guardare, io te lo toglievo subito. Ma siccome non ti fai guardare, andrà via da solo. Non ti fai guardare. Non ti fai guardare. Ti posso vedere senza che muovi la manina? Fammi vedere. Qual è la manina? Fammi vedere. Quella. Quella quale? Quella. Non vedo. Aspetta, fammi vedere. Cristian, se non stai fermo... Tolto? Sì. Te l'ho tolto? Sì. Ok. Ti t'ho molto convinto. L'ho tolto o non l'ho tolto? Dov'è? Ah, ecco dov'è. Guarda, aspetta che te lo tolgo. Dammi un po'. Dammi un attimo la manina. Ecco, toglitelo da solo, va. Te lo sei tolto? Fatto? Hai fatto sì o no? Sì. Ok, hai visto? Che non è niente? Sì. Ecco. Adesso possiamo continuare? Sì. Ok, dai. Bravissima. Dai, togliamo quest'acqua che sta qui. Guarda. Sì. Vai. Prendila da qua, l'acqua, e la porti fuori, va bene? Sì. Pronti? Partenza? Via. Ma come sei bravo. Che bella ginnastica che stai facendo. Vero? Sì. 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 Grazie.